ok lock e andiamo scusa cos'è che hai in mano? un cannone portatile? una navid ovviamente una navid 9.3 un po' avevo silenziatore per quello lì ce l'ho il silenziatore avevi poi no no l'ho messo dentro la gip ma c'è la nebbia ma c'è la nebbia ma c'è la nebbia hanno modificato tutto il san d'andonio qua tu vedi tutto chiaro o vedi con la nebbia? vedo la nebbia laggiù ok levati si cosa? ah yeah bravo esatto vedi? qua a volte ci sono le macchine e anche i player immagino no qua in fondo no cazzo vuoi che ci sia un po' più avanti? no leviamo l'arma dai bene per i migliori bello zitta te all'occhio perchè in queste piante di fronte a noi potrebbe esserci gente anche sotto sto cazzo di albero infatti ci ho guardato su aspetta un attimo che mi accovaccio scondi non capisco hanno luttato c'è il luttato o cosa? si ci sono le porte aperte devo bere ho guardato la frequenza con cui devi bere comunque ma io devo bere e mangiare e ma abbiamo dei via uomo va a ridere il cazzo me li di finoccico ci vai a ridere la mia stai zitto oh ma perchè hanno scritto su ccg test server? si dice no 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 da mangiare tro ma devi mangiare per forza no no posso anche fare a meno più che altro da bere io ho quasi finito ascolta mi butto mi butto vado no perché 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 oh no è che abbiamo tutto manca l'arma stai vogliamo fare un po' di swat perché no dai dai io ti copro comunque non ho luttato alla grande sì se no mi si fosse impiantato dentro un cespuglio in cemento armato vero eh vai dritto di lì dritto di lì verso la casa con la ciminiera con la ciminiera sì sì dritto ecco porco di dio io faccio il giro da destra prima di entrare lì aspetta un attimo K controlla un attimo che io faccio il giro da destra la porca madonna mi si è frizzato mabbio kick it off ok inizia a entrare vai ti guardo da qua no così lì è lo 41 dai cazzo dai cazzo se vuoi luttare in quella casermetta lutta K ma quanto cazzo sto controllando da fuori è nora che sta registrando vabbè il problema è che ho 70 tera qua madonna sai cosa c'è qui? 70 tera questo cazzo mappunto qui però c'è un gile rig che gile hai? hai un gile buono? non lo so non lo sai eh adesso te lo dico va bene intanto me lo metto nello zaino poi se mai te lo dico ho il giletto da combattente fa schifo te lo do dopo vai verso la torre di controllo e stai all'occhio stai all'occhio di brutto quando entri soprattutto perché magari sono camperati lì aspetta torre di controllo o gli hangar torre di controllo torre di controllo dalla torre di controllo poi mi metto io a camperare mentre lutti ok vado mi sparano da dove? da dove? da oltre la pista l'ho visto l'ho visto oltre la pista eccolo lì lo vedo lo vedo oltre la pista oltre i muretti ecco l'ha l'ho visto pure io controlla che no come si dice che nessuno attraversi la pista eccolo lì eccolo lì sta facendo avanti e indietro sul muretto se gli fai il giro a sinistra lo killi vado vai io eccolo lì eccolo lì di nuovo sparagli un attimo si l'ho ammazzato beh lì dio porco ma chi sei occhio perché potrebbe essercene un altro si immagino infatti volevo andare fai il giro controlla bene comunque era un nabbo zitta un attimo eh sì vado sopra la torre io vado a vedere cosa ha quello lì ti servono i nastro 150 munizioni 9.3 eh se me lo tieni sì boh ok sei sopra la torre chiuditi le porte non ancora non ancora ok ok sto solo guardando se vedo qualcos'altro finchia che culo che non mi ha preso bene in testa oh che culo sono sopra non c'è un cazzo ok vado eh k stai all'occhio poi scendi da quella torre perché è un posto proprio da nabbi se ti devi mettere poi a camperare mettiti giù sto cercando di guardare ma non vedo nemmeno nemmeno il corpo non vedo eh il corpo lo vedo io scatto qua ulti ne uno ti ha ammazzato? no no è morto 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 per la torre porco dio raga che numeri! scendo arrivo! bella tro! che numeri! c'è pieno di roba qua, c'hanno tutto arrivo arrivo arrivo! ghilli me la prendo io cazzo! vai tanto che già ce l'ho quindi! guardati attorno che non ce ne sia un altro ancora! forse mi ha ferito! mk 200 lo prendiamo! lo prendiamo tutto! allora! magari qui ti avevano anche un mezzo eh! eh no ma da sta parte c'è qualcuno qui! si! non l'hai preso! sta andando! morto! bravo! come cazzo ha fatto quella ad arrivare lì? stai all'occhio! il problema era solo? eh ma io ci ve l'ho visto! guarda che gli ho sparato anch'io eh! è che stavo guardando dietro di me perché mi sembrava di sentire dei passi! cazzo faccio lo lutto? aspetta un attimo! abbia pazienza un secondo! che ti controllo meglio! mi sa che uno si è posizionato bene o male dove sei te per coprire! e questo è andato avanti! eh beh ma ho sparato sarebbe già venuto qui eh! no no ma poi l'unico punto dove vedi bene è questo! quindi! o viene qua oppure non ti veda te! vai prova a lottare! occhio! sdraiati eh! come si chiamava! come si chiamava? boh! all'SR25 come fucile! vabbè tu piglia che vendiamo! bianca in prima linea hai visto? Sì! mina ha perso porco dio! bella! piazzala un po' all'ingresso della torre di controllo! vicino... tra l'ingresso e le scale che vanno su! proprio al centro lì mettila! così se qualcuno scappa e va lassopra lo killi subito! anche l'arco! può interessare? anche no tanto abbiamo DMS! no no io ho DMS! boh ok! ho preso tutto! dov'è che vuoi che metta la mina? allora l'ingresso della torre di controllo? sì! c'è la porta poi c'è uno spazio aperto e poi le scale! lo metti tra la porta e le scale! ok! vai 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 ti copro non c'è nessuno vai! ora sto guardando solo te! sto andando! mhm! un'altra caserma chiusa! sì sì! tutte e due chiusi! sì bene bene! come si chiamava quello scemo? appena appena la piazzi vieni via! rimediti la! adesso è andato via! ho anche la Claymore! va bene ma la Claymore la devi far detonare te a menata! ah la devo far detonare io? eh sì la Claymore si! ma vaffanculo va! torno al mio posto! mhm! beh l'altro inizio! l'altro inizio! eh no! che cosa c'è? oh guarda! che cosa c'è? che cosa c'è? C'è l'ospedale. C'è l'ospedale, c'è l'ospedale, c'è l'ospedale. C'è l'ospedale, c'è l'ospedale, c'è l'ospedale. C'è l'ospedale, c'è l'ospedale, c'è l'ospedale, c'è l'ospedale. Il loot è sopra la torre, ma sopra in aria. E allora, guarda, per me si può anche restare. Scendo. Siamo dall'altra parte. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Campo aperto? Bene, va che bravi. Sì, sì, vai, vai. Vieni, vieni. Senza arma? Sì, sì. Vieni. Vieni. Che bello, porco, due. io volevi venire qua no no c'è una missione più avanti la vedi la strada che abbiamo c'era un mezzo qua vicino a me l'ho sentito un quodo o qualcosa del genere stanno andando alla missione vieni dai corri con l'arma semmai lo sento vieni vieni che va alla missione tanto al massimo lo vediamo lo scoppiamo cammina di qua della strada dai bianca dai bianca puttana madonna scusa ma mi sono cagata in mano pensavo mi stesse venendo addosso era vicinissimo troia can no non vorrei averlo dietro testina guardaci intanto corri va bene se non ci becchiamo un elicottero eccolo qua è un kart sta arrivando dalla nostra parte troppo scoppialo eccolo lì è stato tu eh sì minchia ma mi stava venendo addosso porco dio vai a vedere vai a vedere cos'ha che bisogna andare alla missione a rubare un mezzo l'mk emr come fucile vai vai piglialo lo piglio io che non ci sta e lo piglio io prendigli dai prendi il fucile io mi alzo se non avevo un cazzo l'mk1 emr e poi calia buono mirino da fucile da cecchino da mangiare da bere se li prendo io poi te li do ok si si tranquillo coprimi quello che sto cercando di fare porco dio che smitragliata che li hai cacciato perché non me la prende sta robinigranata lo togliamo minchia non riesco a prendergli la roba da mangiare bianca devi prendergli la te ah e la prendo io allora però vattene via la la ma vai si jammer addirittura l'ho rubato si si grande via via ti prendo da bere da mangiare eh a me quello sta si 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 ti copro c'è ancora fammi vedere si 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 porco dio ecco l'hai i bot vai via vai vieni via di qua vieni di qua eh appena si mette a corre sto coglione allora noi potremmo anche usarla come esca cioè a me alla fine non lo so potremmo usarla come esca aspettare che arrivi qualcuno però poi finisce la missione se non la fai dopo un po' eh e allora guarda cerchiamo di farla tanto abbiamo armi silenziate no? giusto? si ma sai qual è il problema? che adesso quelli che vengono qua hanno il punto e sanno dov'è quindi se noi la facciamo e me ti stiamo luttando magari arrivano e ci inculano loro io aspetterai un goccio ma non ci sono, dove li vedi i bot? scusa no no li ho proprio visti, si erano alzati in piedi no, io non li vedo ma sono io il capo qua vabbè vieni su sta collina dai si sto arrivando scusa ma ho imbracciato l'arma e quindi vado un po' più lento sono proprio i banditi quelli col bandana bianco in falcia si? allora io vedo il posto dove c'è la missione ma i banditi non li vedo strano perché li ho visti io e allora stanno correndo da qualche parte io non li vedo proprio vanno correndo avanti e indietro sono appena sotto l'altra collina allora troppo eh può essere vado verso l'acqua si vado verso l'acqua no no rimaniamo atti perchè? perchè vuoi andare basso? vuoi andare basso per killare i bot e andare a vedere questo cazzo tesoro se lo facciamo velocemente non arriva nessuno dai 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 ti copro da qua dai via chi è? sono i bot no no si si no no sono i bot sono i bot sono i bot poело uno lo ha sfondato io anche un altro ti stai prendendo e me l'hanno fatto they up no te lo ha fatto dio porca te ahhh cazzo no 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 sono sono 것 sono bot si ma c'è un quota qui vicino quindi penso ci siano anche no 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 sono tutti i bot Oddio, sapevo che non dovevo andare in basso No, non andare allo scoperto Se ti fanno anche a te un casino Sottomira li ho comunque Ma non riesco a prenderli, dio cane No, no, vai dietro gli alberi, Bianca Non stare in campo aperto Ci sto andando, ci sto andando Hai la multigam? Sì Cioè la prendo e ti faccio rivivere Sì, però in reviva è dentro Ce l'ho uno anch'io di reviva Buono, allora pigliala Io porco, lo sapevo, Bellini Ho detto non andare giù Bisogna stare alti Poco da fare Mettiti un po' più a destra No, perché sono andati proprio in quella direzione Ok, va bene Porco Dio, c'hanno delle armi della Madonna Buono perché mi era sembrato vedere un cazzo di botta adesso Un attimo Ah, è fallita Ah sì? Sì, forse sono spariti Ok Qui funziona la multigam Sì Prova un po' Sì, minchia Un fucile per terra Un fucile per terra Ah sì, dove? C'è un fucile per terra È mio, è mio Te la do dopo la multigam Ascolta, i bot non sono più su questa direzione, però Infatti le armi sono rimaste per terra C'è un quad dall'altra parte dell'acqua Allora, adesso ti ho fatto rivivere, no? Giusto? Buon, perfetto, vado avanti io Grazie Perché altrimenti tu devi aspettare un botto C'è uno dietro, c'è uno dietro Che cazzo è? Non ci ha visto? Come ha fatto a non vederci? Porco Dio Ma che cazzo è, oh? Che culo Che culo mi è passato dietro Ok, ma questo qua è un bot Dio can, l'M107 è questo Troia Can No, no, non era un botto Minchia che storia, oh Ma che cazzo è successo? Questo qua l'ho ammazzato io Questo? No, questo è quello che ho seccato io L'abbiamo ammazzato assieme, allora? Io ho ammazzato un altro Troia Can Eh sì, e dove l'hai ammazzato? Io ho ammazzato questo Ah, porco Dio Quello che sono andato a luttare L'ho ammazzato Ma dici Questa è roba mia Ecco Quindi cosa vuoi fare? Niente, ne abbiamo C'è uno Il tre qui si lo prendo Vai, figa E prendilo E allora ti ridò Figlia anche l'MK1MR Allora, beh Lo vedi al massimo Non mi sta Ma hai capito che cazzo di storia? Io veramente non ci ho capito un cazzo Non so te Vedi un po' oltre Comunque non è arrivato nessuno con i veicoli, cazzo Preso via Queste arrivavano da qua Troia Can Sì, da dietro di me Sì, boh Quindi Se arrivavano da qua Se avevano un mezzo Se arrivavano da questa parte Tu non l'hai sentito forse? No, no Io il mezzo Sì, a me sembrava aver sentito un mezzo in realtà Eh minchia Ora vado a trovare il mezzo Ah, magari è dietro qua gli alberi, sai? Andiamo a vedere Ascolta Andiamo a dare un'occhiata Io ho trovato delle barche di là Volevo prendere le barche poi Coro senza arma Sì, sì, pure io Eccolo là Ma è un aereo Come un aereo? Il bi... Cos'è? Il biare? Sì, sì Ma non sono arrivati con questo Allora Fantastica Andiamo a prendere Tu non lo sai guidare bene Io sì Boh, e allora Bi posto o cosa? Eh, ora vediamo Non ho idea Poi che se dobbiamo ad un elicottero Possiamo farci qualche giro con quello E via Ma che storia Che culo che non manco Ma come hanno fatto a non vederci? Cioè, almeno a me Troia Khan Ti dico che queste ghilli Sono veramente una bomba Su questo tipo di vegetazione Sei tu che vuoi le altre Ma secondo me è meglio queste No, anche le altre sono tostissime Eh Eh, beh, non dico di no E' certo che uno non si è morto sulla mina appers Che ho messo lì a... Ah, allora sì Allora sì Ora che ci siamo Ecco È morto sulla appers all'aeroporto Oddio, porco Ho idea quante bestie mi avrà tirato Porco addio Mi sa che è a monoposto Sì, è a monoposto Vabbè, ascoltate Prenditi l'aereo Fatti un giro Così intanto mi fumo la sigaretta No, no Ascolta Ma non me ne frega un cazzo Non c'ho paura di cadere Ascolta Ah, vabbè Quella è un'altra parte di maniche Ti facevi un giro Così mi dicevi Se trovavi un elicottero È tutto rotto Anche Ah, è vero Ma ci sono le barche Ho trovato le barche Ah, lo vedo Ah, ecco Ma anche No, no, non è vero Ma anche per chi si era Ascolta Non mi sembra È vero Un'altra parte Che successe ? Mi hanno un taranto Non è vero Ma che vuoi Seguro Questa Ok